musica 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 eh sta scendendo vuole scendere anche il sindaco però penso musica 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 Sì, 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 sì. Si è fuori pagare con l'ucidio per spaventare Aspetta dove ti ritrovo, sono varie formiche Pronti per il fuoco? Brucia! 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 Pronti per il fuoco? comandante allora com'è andata questa detonazione benissimo questo è tutto ciò che è rimasto delle due bombe quanto tritolo avete utilizzato e come è stata preparata questa detonazione abbiamo impiegato all'incirca 10 kg di ritolo per l'innesco per simpatia ed è stata preparata con il sistema di miccia lenta combustione innesco a miccia lenta combustione